aliosha accompagnò il suo starec nella cameretta e lo fece sedere sul letto era una stanzetta piccolissima arredata solo del necessario il letto era stretto di ferro e per materasso non aveva che un panno di feltro in un angolo accanto alle icone si trovava un leggio con sopra una croce e il vangelo lo starec si abbandonò sul letto esausto i suoi occhi brillavano e respirava a fatica quando si fu seduto guardo fisso aliosha come se stesse pensando a qualcosa va caro va a me basta porfiri tu affrettati laggiù c'è bisogno di te va dal padre igumeno e servi a tavola permettetemi di restare qui disse aliosha con voce supplichevole sei più necessario laggiù lì non c'è pace servirai e ti renderai utile se si sollevano i demoni recita una preghiera e sappi figliolo lo starec amava chiamarlo così che d'ora in avanti il tuo posto non è più qui tienilo a mente ragazzo non appena dio mi riterrà degno di presentarmi al suo cospetto lascia il monastero lascialo per sempre aliosha ebbe un sussulto che hai il tuo posto per ora non è qui ti consacro a una grande opera nel mondo dovrai percorrere ancora molta strada e dovrai sposarti dovrai farlo dovrai sopportare ogni cosa prima di ritornare qui e ci sarà molto da fare ma non dubito di te ed è per questo che ti mando cristo è con te custodiscilo in te ed egli ti custodirà conoscerai un grande dolore e nel tuo dolore sarai felice eccoti il mio testamento nel dolore cerca la felicità lavora lavora senza posa ricorda sempre quanto ti ho detto oggi perché anche se avremo modo di parlare ancora non solo i giorni ma anche le mie ore sono contate sul volto di aliosha tornò a dipingersi una forte commozione gli angoli delle sue labbra tremarono cosa c'è sorrise dolcemente lo starec lascia che siano gli uomini del mondo ad accompagnare con le lacrime i propri defunti ma noi qui ci rallegriamo quando un padre muore ci rallegriamo e preghiamo per lui ora lasciami devo pregare va affrettati sta vicino ai tuoi fratelli e non a uno solo ma tutti e due lo starec sollevò la mano per benedirlo era impossibile opporsi benché aliosha volesse rimanere con tutto se stesso avrebbe voluto chiedergli e già la domanda stava per sfuggirgli di bocca che cosa significasse il profondo inchino ai piedi del fratello dimitri ma non lo so sapeva che lo starec sarebbe stato il primo ad offrire una spiegazione se fosse stato possibile anche senza domande evidentemente non voleva farlo ma quell'inchino aveva suscitato in aliosha una profonda impressione era ciecamente convinto che vi fosse racchiuso un misterioso significato misterioso e forse anche terribile quando varcò in fretta al recinto dell'eremo per arrivare al convento prima che cominciasse il pranzo del ligumeno solo per servire a tavola si intende avvertì un'improvvisa e dolorosa stretta al cuore e si fermò sentiva risuonare ancora una volta le parole dello starec che annunciavano la sua fine ormai prossima quel che lo starec aveva predetto e per giunta con tanta precisione doveva senza dubbio avverarsi aliosha ci credeva religiosamente ma come avrebbe potuto vivere senza di lui come avrebbe fatto senza vederlo o sentirlo mai più e dove sarebbe andato gli ordinava di non piangere e di uscire dal monastero oddio da tempo ormai aliosha non provava una simile angoscia si inoltrò rapidamente nel bosco che separava l'eremo dal monastero e incapace ormai di sopportare i propri pensieri tanto se ne sentiva oppresso si mise a guardare i pini secolari ai lati del sentiero il tragitto non era lungo circa 500 passi non di più a quell'ora non avrebbe incontrato nessuno ma alla prima curva del sentiero scorse improvvisamente rakitin attendeva senz'altro qualcuno aspetti forse me domandò aliosha quando l'ebbe raggiunto proprio te sorrise rakitin tu corri dal padre igume non lo so da un pranzo e da quando ha ricevuto il vescovo e il generale pacato ricordi che non da un pranzo così io non ci sarò ma tu va pure e servi a tavola dimmi solo una cosa lexiei che cosa significa quella visione volevo chiederti solo questo che visione quell'inchino così profondo ai piedi di tuo fratello dimitri fiodorovic ha persino battuto un colpo a terra con la fronte parli di padre zosima sì di padre zosima ha battuto con la fronte mi sono espresso con poco rispetto beh non importa ebbene cosa significa quella visione non lo so miscia cosa significa lo sapevo che non te l'avrebbe spiegato nulla di straordinario a quanto pare le solite stupidaggini bigotte ma il colpo di scena è stato voluto adesso tutti i bacchettoni si metteranno a mormorare in città e in provincia che cosa significa quella visione diranno secondo me il vecchio è davvero acuto ha affiutato un fattaccio c'è puzza di bruciato in casa vostra che fattaccio si vedeva che rachitin voleva dire la sua capiterà nella vostra famigliola questo fattaccio capiterà tra i tuoi cari fratelli e il tuo ricco paparino ecco perché padre zosima ha battuto con la fronte per ogni evenienza così qualunque cosa succeda il santo starec l'aveva anche annunciato l'aveva predetto anche se poi che profezia è dare dei colpi con la fronte no diranno era un simbolo un'allegoria sal diavolo cos'era la faccenda verrà sbandierata e ricordata aveva predetto il delitto si dirà aveva indicato il colpevole gli urodivi fanno sempre così fanno il segno della croce sulla bettola e prendono a sassate il tempio così fa anche il tuo vecchio il giusto lo caccia via con il bastone e davanti all'assassino si inchina fino a terra che delitto quale assassino ma che dici e alioscia restò come inchiodato si fermò anche rachitin quale assassino come se tu non lo sapessi scommetto che ci avevi già pensato anche tu ecco questa è una cosa interessante senti alioscia tu dici sempre la verità anche se tieni sempre il piede in due staffe ci avevi pensato o no rispondi ci avevo pensato rispose alioscia a bassa voce persino rachitin si turbò davvero ci avevi pensato anche tu esclamò io non è che ci ho pensato murmurò alioscia ma adesso quando ti sei messo a parlarne in modo così strano mi è sembrato di averci già pensato anch'io vedi vedi e come ti sei espresso chiaramente oggi guardando tuo padre tuo fratello mi tienca hai pensato un delitto non è vero allora non mi sbaglio aspetta aspetta lo interruppe alioscia agitato come fai a vedere tutto ciò e soprattutto perché ti interessa tanto ecco il primo punto due domande distinte ma più che naturali risponderò a un quesito alla volta come lo vedo non avrei visto nulla se oggi non avessi capito in un lampo solo come fatto tuo fratello dimitri fiodorovic come fatto in tutto e per tutto mi è bastato un solo tratto per comprenderlo da cima a fondo e gli uomini come lui onesti ma lussuriosi c'è un limite che non va oltrepassato altrimenti altrimenti arriverà al punto di accoltellare anche il paparino e il paparino è un vizioso ubriaco esmodato che non ha mai conosciuto la misura in nulla non sapranno contenersi entrambi e giù nel fosso tutti e due no miscia no se solo questo mi conforti le cose non arriveranno fino a questo punto ma perché tremi tutto lo sai com'è tutta la storia lui mi tienca sarà magari un uomo onesto sciocco ma onesto e tuttavia è un sensuale ecco la sua definizione e la sua intima essenza è il padre che gli ha trasmesso la propria vile sensualità è solo di te alioscia che mi meraviglio come mai sei vergine eppure sei anche tu un karamazov nella vostra famiglia la sensualità è spinta fino al delirio ed ecco che questi tre sensuali adesso si rincorrono a vicenda con il coltello in tasca si sono ritrovati a sbattere la testa in tre e magari tu sarai il quarto ti sbagli sul conto di quella donna dimitri la disprezza disse alioscia con un fremito grusenka dici no fratello non la disprezza se per lui ha lasciato la sua fidanzata senza farne mistero non la disprezza affatto qui qui fratello si tratta di qualcosa che tu adesso non puoi capire fa che un uomo si innamori di una certa bellezza femminile del corpo di una donna o magari solo di una parte di esso cosa che un lussurioso può capire e per lei si sbarazzerà dei propri figli venderà il padre la madre la russia e la patria se è onesto andrà a rubare se è mite ammazzerà se è fedele tradirà il cantore dei bei piedini femminili pushkin li celebrava in versi altri non li celebrano ma non li possono guardare senza farsi prendere dalle convulsioni e non ci sono soltanto i piedini qui fratello il disprezzo aiuta ben poco ammesso che egli disprezzi grusenka la può disprezzare ma non può staccarsene certo lo capisco disse di scatto a liosha davvero e devi proprio capirlo se hai detto che lo capisci così di primo acchito disse rachitin con malizia l'hai buttata lì senza pensarci ti è sfuggito di bocca una confessione tanto più preziosa quindi è un argomento che conosci già ci hai già pensato alla sensualità verginella tu sei un'acqua cheta aliosha un santo d'accordo ma un'acqua cheta lo sa il diavolo cos'altro hai pensato e che cosa conosci già vergine sì ma ormai la sai lunga è da un pezzo che ti osservo sei anche tu un karamazov un perfetto karamazov significherà pure qualcosa la razza e la selezione sensuale da parte di padre gli urodivi da parte di madre perché tremi dico la verità sai grusenka mi ha detto portalo qui parlava di te gli leverò la tonaca e con quale insistenza portalo portalo qui mi domando solo che cos'hai per incuriosirla tanto ma anche lei è una donna fuori dal comune sai salutala e dille che non verrò aliosha stentò un sorriso finisci il discorso che hai cominciato michael e poi ti dirò il mio pensiero che c'è da finire è tutto chiaro è la solita musica fratello mio se persino in te si nasconde un sensuale che dire allora di ivan tuo fratello di sangue e anche lui un karamazov in questo è racchiuso tutto il problema di voi karamazov sensualità avidità e follia tuo fratello ivan al momento per qualche suo scuro e stupidissimo scopo si diverte a pubblicare degli articoletti teologici pur essendo ateo e confessa anche una simile bassezza questo tuo fratello ivan non basta sta anche cercando di soffiare la fidanzata al fratellino mitia e pare che raggiungerà anche questo scopo e in che modo poi con il consenso dello stesso mitienca perché mitienca stesso è pronto a cedergli la propria fidanzata pur di liberarsene e correre da grusenca e questo nota bene con tutta la nobiltà e con il disinteresse di cui si vanta sono questi gli uomini più fatali di tutti dopodiché solo il diavolo potrebbe capirvi a coscienza della propria bassezza e ci si tuffa lo stesso c'è dell'altro ascolta adesso il vecchio vostro padre intralcia la strada di mitienca ecco che tutta un tratto ha perso la testa per grusenca gli viene la bava alla bocca soltanto a guardarla è solo per lei che ha fatto uno scandalo simile nella cella dello stare poco fa solo perché mi uso ha osato dire che è una donna dalla condotta discutibile è innamorato peggio di un gatto prima lei gli serviva solo per certi suoi lo schiaffarucci nelle sue bettole e la ricompensava in danaro ma ora si è accorto di lei l'ha osservata meglio ci si è accanito e la circuisce con proposte di certo non oneste ed è su questo terreno che si scontreranno padre e figlio ma grusenca non è interessata né all'uno né all'altro tergiversa e li stuzzica entrambi per capire quale le convenga di più perché se è vero che al padre potrebbe spillare molti quattrini egli però non la sposerà e alla fine potrebbe anche diventare tirchio e chiudere la borsa da questo punto di vista anche mitienca i suoi vantaggi di soldi non ne ha ma in compenso arriverebbe a sposarla sì signore arriverebbe a sposarla pianterebbe la fidanzata una bellezza incomparabile come caterina ivanovna ricca nobile e figlia di un colonnello per sposare grusenca l'ex mantenuta di un vecchio bottegaio samsonov un contadino depravato sindaco della città tutto questo può portare davvero uno scontro mortale ed è quello che aspetta tuo fratello ivan per lui sarebbe un affare conquisterebbe caterina ivanovna per la quale si strugge e arrafferebbe i suoi 60 mila rubli di dote per un povero diavolo squattrinato come lui sarebbe un gran colpo tanto per cominciare e nota bene mitia non lo considererebbe affatto come un affronto ma anzi gliene sarebbe infinitamente grato fino alla morte so per certo infatti che la settimana scorsa lo stesso mitinca mentre si trovava in un'osteria ubriaco insieme a delle zingare gridava di essere indegno della sua fidanzata katinka mentre suo fratello ivan lui sì che ne era degno quanto a caterina ivanovna sei pure sicuro che alla fine non respingerà un uomo affascinante come ivan fiodorovic già adesso è incerta tra i due ma come ha fatto questo ivan a sedurvi a tal punto che lo venerate tutti e intanto lui ride di voi che affare pensa e io me la godo alle vostre spalle come fai a sapere tutte queste cose perché parli con tanta sicurezza domandò alioscia bruscamente scuro in volto e tu perché mi fai questa domanda anche se hai già paura della mia risposta allora ti rendi conto anche tu che ho detto la verità a te ivan non piace ma ivan non si lascia sedurre dal danaro davvero e dalla bellezza di caterina ivanovna qui non c'è di mezzo soltanto il danaro anche se 60.000 rubli fanno gola a tutti ivan guarda più in alto ivan non si lascia sedurre nemmeno da migliaia e migliaia di rubli ivan non cerca il danaro nella tranquillità forse cerca solo il dolore che sogno è mai questo voi nobili o sapessi miscia il suo animo è travagliato e il suo spirito prigioniero in lui c'è un pensiero grande insoluto ivan è tra coloro che non hanno bisogno di milioni ma solo di risolvere il proprio pensiero un plagio letterario alioscia stai solo ripetendo le parole del tuo starec ivan vi ha dato da sciogliere un bel enigma esclamò rachitin con a credine evidente persino il suo volto si era alterato e le sue labbra contratte e per giunta un enigma stupido non c'è nulla da indovinare metti in moto il cervello e capirai il suo articolo è ridicolo è insensato ho sentito poco fa la sua sciocca teoria senza immortalità dell'anima non c'è nemmeno virtù e quindi tutto è lecito a proposito ricorda come il tuo fratellino mitien che ha gridato subito me ne ricorderò è una teoria seducente per i farabutti ma io lo insulto che stupido sono non per i farabutti ma per gli studenti spacconi che hanno pensieri profondi e insolubili è un gradasso è tutta qui la sostanza da una parte non si può non riconoscere dall'altra non si può non ammettere tutta la sua teoria è un'infamia l'umanità stessa troverà in sé la forza di vivere secondo virtù anche senza credere nell'immortalità dell'anima la troverà nell'amore per la libertà l'uguaglianza la fratellanza rachitin parlava con passione quasi non riusciva più a contenersi ma si fermò di colpo come se si fosse ricordato di qualche cosa su via basta e alioscia fece un sorriso ancora più tirato di prima che hai da ridere pensi forse che io sia un villano no non mi è mai passato per la testa che tu fossi un villano tu sei intelligente ma lascia andare sorriso come uno sciocco capisco bene come tu possa scaldarti tanto miscia dal tuo trasporto deduco che anche a te caterina ivanov ma non è affatto indifferente da lungo tempo ne avevo il sospetto fratello ed è per questo che a te mio fratello ivano non piace sei geloso di lui e anche dei quattrini di lei vero dillo pure forza no del danaro non ho niente da dire non voglio offenderti ti credo perché l'hai detto ma che il diavolo vi porti te tuo fratello ivano nessuno di voi capisce che caterina ivanov a parte può tranquillamente non piacere perché mai dovrebbe piacermi che il diavolo se lo porti e si permette anche di insultarmi e io perché non dovrei avere il diritto di insultarlo io non l'ho mai sentito esprimersi sul tuo conto né bene né male di te non parla affatto e io invece ho sentito dire che due giorni fa in casa di caterina ivanov ma mi ha conciato per le feste si vede che si interessa abbastanza al vostro umile servitore dopo un simile episodio fratello non so proprio chi sia quello geloso si è permesso di esprimere questa idea che se io non mi rassegnerò alla svelta alla carriera di archimandrita e non mi deciderò a farmi la chierica allora partirò senz'altro per pietroburgo ed entrerò in qualche importante giornale sicuramente in qualità di critico scriverò per una decina d'anni alla fine mi impadronirò del giornale quindi riprenderò a pubblicarlo e gli darò un indirizzo liberale e ateo con una sfumatura socialista anzi con una sottile vernice di socialismo stando sempre però con l'orecchio teso insomma tenendo il piede in due staffe imbrogliando i sempliciotti secondo le previsioni di tuo fratello la conclusione della mia carriera sarebbe questa che quella sfumatura socialista non mi impedirà di depositare in banca i quattrini degli abbonati per investirli poi sotto la guida di qualche ebreuccio finché non mi costruirò una grossa casa a pietroburgo in cui trasferirò la redazione e negli altri piani ospiterò degli inquilini ha persino precisato il luogo in cui sorgerà presso il nuovo ponte di pietra sulla nevà che si sta progettando pare a pietroburgo tra la liteinaia e la viborscaia amicia può anche darsi che tutto questo sia veri dalla prima all'ultima parola esclamò alioscia e non poté fare a meno di sorridere allegramente anche voi vi abbandonate al sarcasmo alixiei fiodorovic no no stavo scherzando scusa ho ben altro per la testa permettimi una domanda però chi ti ha potuto riferire tutti questi particolari da chi li hai potuti sentire di certo non potevi trovarti da caterina ivanov ma mentre ivan parlava di te io non c'ero c'era però dimitri fiodorovic e io li ho sentiti con le mie orecchie dallo stesso dimitri fiodorovic cioè veramente non me li disse lui ma ho avuto modo di ascoltare mio malgrado si intende perché mi trovavo nella camera di grusenka e non potevo uscire finché dimitri fiodorovic si tratteneva nella stanza accanto ah già dimenticavo lei è una tua parente vero parente grusenka mia parente esclamò di scatto rachitin arrossendo tutto ma sei impazzito tu non hai il cervello a posto come non è tua parente così avevo sentito ma dove hai potuto sentirlo no voi signori caramazzo vi vantate tanto di essere degli aristocratici di vecchia data quando invece tuo padre correva a fare il buffone alla tavola altrui ed era messo in cucina per misericordia lo ammetto sono solo il figlio di un semplice pope è un verme in confronto a voi nobili ma non insultatemi in modo così allegro e sfrontato ho anch'io il mio onore alexei fiodorovic non posso essere parente di grusenka una donna pubblica vi prego di capirlo rachitin era agitatissimo scusami per l'amore di dio non potevo certo immaginarlo ma poi che donna pubblica intendi una di quelle e aliò sciarro sì ti ripeto avevo sentito che è una tua parente tu vai spesso da lei mi hai detto anche tu di non avere con lei una relazione amorosa non avrei mai pensato che la disprezzassi tanto ma se lo merita davvero se la frequento posso avere le mie buone ragioni e questo ti basti quanto alla parentela è più facile che tuo fratello o magari tuo paparino la fibieranno come parente a te e non a me ma eccoci arrivati vai in cucina è meglio ai ma che c'è che succede ancora siamo in ritardo non possono avere finito così presto o i karamazov ne hanno combinata un'altra delle loro è senz'altro così ecco tuo padre e ivan fiodorovic dietro a lui scappano dalla casa del ligumeno ed ecco il padre isidor che grida loro qualcosa dalla scaletta anche tuo padre grida e agita le braccia sta sicuramente insultando qualcuno e lì c'è anche miusov che parte in carrozza vedi se ne va guarda il possidente maximov come corre ma qui è successo uno scandalo allora il pranzo non c'è stato che abbiano picchiato ligumeno o forse sono stati picchiati loro questa sì che sarebbe bella le esclamazioni di rakitin erano giustificate era davvero successo uno scandalo sbalorditivo e impensabile e tutto era accaduto per una ispirazione improvvisa grazie a voi